diciamo convalidare le emozioni ad esempio se quella persona ha un problema tu devi convalidarlo mai invalidarlo perché vuol dire andare contro la sua sfera logico-razionale fondamentalmente e che cosa vuol dire che se una persona ha una credenza devo ricalcarla qualunque credenza essa sia perché per portare una persona nel tuo mondo devi prima devi prima far sì che quella persona diciamo devi prima tu entrare nel suo mondo quindi non può esistere una persuasione una seduzione se non sviluppate delle situazioni di questo genere e quindi la convalida è importante perché serve diciamo a coinvolgere poi un'altra cosa che vi suggerisco di fare quando conoscete una persona quando state interagendo con quella persona è un punto molto importante è imparare a usare il suo tipo di linguaggio cioè se quella persona usa certe parole specifiche parole ricorrenti e utilizzatele anche voi utilizzatele anche voi senza scimmiottare perché scimmiottare è la cosa fondamentale è una cosa sbagliata ma è importante per creare un'intimità profonda è anche importante farvi vedere come persone allegre se voi siete sempre persone che rimuginate che rompete i coglioni che dite dove sei cosa fai che vi dimostrate gelose fanno bene a lasciarvi fanno bene fanno bene ad andarsene a vivere con altre fanno bene perché sareste state talmente cagacazzo talmente rompicoglioni che neanche il catramista neanche più infimo dei catramisti vorrà restare con voi importante quindi usare anche l'umorismo l'umorismo uno strumento potente per castruire una fiducia di come di quella persona è molto importante imparare a usare l'umorismo anche utilizzare il tono di voce giusta il tono di voce la velocità del discorso possono influenzare ovviamente la persuasione possono influenzare il coefficiente di penetrazione diciamo e quindi è molto importante questo imparare ad usarlo evidentemente sono cose molto importanti quindi le cose importanti sono ascoltativo mostrare l'empatia mantenere nei contact usare un linguaggio del corpo appropriato utilizzare un linguaggio simile a quello che utilizza la persona e poi il potere delle domande il potere delle domande è un altro punto fondamentale il potere delle domande è molto forte utilizzate domande aperte in modo tale che l'altra persona possa aprirsi esprimere quelle che sono le sue esigenze questo è un fatto fondamentale poi imparate a mettere a vincularlo imparate a mettere del subito dei vincoli da subito perché vincularlo da subito è molto importante imparate anche a essere flessibili cioè a cambiare il vostro modo di fare adattandovi a quelle situazioni che portano dei risultati l'ascolto attivo consiste nel prestare attenzione alla persona per cogliere quelli che sono eventuali punti deboli tenendo presente che noi tendiamo essendo autoreferenziali tendiamo a parlare di ciò che ci fa soffrire tendiamo a parlare dei nostri limiti tendiamo a parlare delle nostre paure questo è un punto molto importante quindi imparate un linguaggio aperto imparate a mostrare empatia per comprendere profondamente le persone come dicevo l'eye contact linguaggio del corpo giusto e le domande aperte sono fondamentali perché possono aiutare la persona a diciamo ad aprirsi ovviamente ma poi una volta che hai fatto tutto questo inizia a mettere dei vincoli inizia a mettere qualche inizia piano piano a mettere qualche vincolo inizia piano piano ad esempio a non dare sempre la tua disponibilità perché tu non devi mendicare l'amore perché se mendichi l'amore verrai diciamo trattata come una pezza da piedi fondamentalmente ma tu devi mettere dei vincoli no domani non ci sono dopo domani non ci sono